Bella a tutti burloni sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video della vanilla perché mi trovo nel deposito questo non lo so nemmeno io infatti ho iniziato l'intro così a caso molto a cab perché ho detto ma ciao iniziamo qua perché bordello e tutti ragazzi dico tutti mi avete detto che vi piace questa stanzina sono contentissimo io l'ho fatta completamente a caso senza pensare che vi potesse piacere o meno ho detto ciao proviamo a far qualcosa dato che avevo del tempo qui intanto spawnano i mob quindi mettiamo un attimino un po' di torce ma sono davvero contento che vi sia piaciuta davvero contentissimo siamo tornati in 1.11 ragazzi perché oggi voglio andare a trovare un lama e voglio chiamarlo un nome che dite voi nei commenti in realtà io un nome ce l'ho vorrei chiamarlo tipo Ruggero Ruggero il lama è molto molto figo comunque nei commenti scrivete hashtag lama e scrivete un nome per un lama che può essere anche tipo cactus clane o qualcosa del genere però ragazzi per prendere il lama ci serve la lead la lead che cos'è? che cos'è la lead non lo so nemmeno io no in realtà è la cordicina per fare la cordicina però ragazzi ci servono le slime ball io ho cercato dentro la mia quest di raccolta ma non abbiamo slime ball quindi ci toccherà andare a cercare degli slime da qualche parte che effettivamente sei giorno non li troveremo mai però proviamoci almeno proviamo andare a vedere se troviamo un fantastico slime sarebbe qualcosa di veramente bellissimo non ci credo neanche più dove può essere oh lì c'è però c'è la swampland quindi se c'è la swampland ovvero la palude in teoria dovrebbero spawnare dei piccoli slime oh sei morto mi spiace la tua carne non lavora ragazzi per chi si fosse perso gli episodi precedenti della vanilla ho detto che domani anzi oggi in realtà anche domani e dopo domani sarò presente il games week quindi se partecipate scrivetelo nei commenti portate quello che volete e magari fatemi un regalino con tipo un cartelone con scritto ma questo è perfettamente è un cerchio perfetto non l'avevo mai visto c'è anche tanto ferro c'è tanta cotta ok ok fatto un cartelone con scritto la vanilla è il top enorme così a caso secondo me dobbiamo aspettare la notte però questo non è sicuro anzi in realtà potrebbe essere che spuona tranquillamente di giorno uno slime però non è detto le possibilità sono molto inferiori quindi proviamo a vedere se c'è qualcosa io credo che dovremmo aspettare la notte ok dovrebbe essere potenzialmente notte in teoria ok si forse ho lasciato passare un pochino troppo mi sa e infatti ho lasciato passare un pochino troppo dovrebbero spawnare degli slime adesso qui nelle swampland quindi spawnate slime perchè io ho bisogno delle vostre slime ball perchè senza le slime ball non possiamo fare il lead e senza il lead non potremo mai prendere dei lama e senza la lama non possiamo mai chiamare un lama ruggero cioè capite questa è una reazione a catena mostruosa ok siamo riusciti a ucciderlo perfetto però io voglio lo stesso lo slime slime dove sei dove vai cioè effettivamente ragazzi perchè non spawnano gli slime pochino più più spesso più ovunque lo so che ci sono gli slime chunk questo lo so non sono scemo però potrebbero spawnare tranquillamente più spesso dal mio punto di vista nooo non c'è nessun slime non troviamo uno slime qui nelle swampland siamo nella merda senza slime noi siamo nella merda in teoria dovrebbero spawnare qui nelle swampland cioè oddio io non avevo tipo ammazzato uno qua in zona una volta o mi sbaglio no io sono sicurissimo di aver trovato qualcuno in zona una volta dopo mezz'ora che sto cercando regà ancora niente torno indietro e proviamo a fare il giro lungo magari mi spona tipo da qualche parte perchè magari lo slime chunk è da qualche parte qui vicino e magari non spona perchè sono troppo vicino bisogna avere tipo 20 blocchi di non lo so non lo so non lo so non lo so proviamo a pensarle tutte perchè sennò è un disastro è un disastro qua dovrebbe spawnare sono quasi sicuro che sponi qua è passata all the night regà e non ho trovato assolutamente nessuno slime e io non so assolutamente che cosa fare per trovare uno slime in questo momento sono un attimino nel panico perchè senza slime dove sei spawnato perchè è spawnato di giorno sto qua? a parte che raga non so se ve ne siete accorti ma la fan scende lentamentissimo oggi c'è proprio qualcosa di anomalo ma secondo me sapete perchè a parte che non correvo più di tanto ma perchè l'ho portato non c'è non è più in un server se schiaccio tab non è più in un server perchè siamo in 1.11 però la cosa strana è che da quando l'ho messo in 1.11 prima infatti stavo farmando e non ho mangiato veramente tanto ho mangiato davvero poco e questo secondo me potrebbe essere un buon segno per quanto riguarda il fatto che nei server tipo sprecavamo un sacco di cibo se vi ricordate ma tipo troppo della vita ho buttato la mia spada oh Rosenborg andiamo a farci subito la lead e se non erro quando andammo con i fan in live erano dietro che erano spawnati lama quindi abbiamo bisogno del nostro lama ruggero raga del nostro lama ruggero io dopo mi metterò anche a pescare per vedere se trovo una ninta che sarebbe figo qui intanto ho finito raga ho fatto un'altra striscia allora per fare la lead ci vuole una slime ball e delle cobweb cioè non le cobweb le stringhe in poche parole ne abbiamo trenta mi servono tre qua allora si fa così se ne facciamo due per le sicurezza però comunque si fa così e così perfetto ce ne da quattro così vabbè che top 4 va benissimo andiamo subito a prendere il lama perché ruggero dovrà venire in casa tipo lo chiuderemo in una stanza a caso ciao Nike tutto bene anche tu Nike che poi non so se lo chiamerò ruggero in realtà perché mi avete detto ancora niente quindi non lo so io però voglio andare qua dietro non voglio andare qua dietro voglio andare non lo so dov'è che vogliamo andare oh da sta parte non siamo mai andati effettivamente di qua a sinistra però no dov'è che non siamo andati non lo so dritto di là andiamo andiamo di là andiamo di là andiamo di là andiamo di là di qua dovrebbe essere addirittura nord no questo è west questo è sud questo è north ok magari dobbiamo andare verso di là alla fine ho optato per andare a destra della banca in fondo perché effettivamente se non erro le avevamo trovati lì e là ma e io voglio trovare ruggero che poi non so se si chiamerà ruggero magari piero magari alfonso o magari piero ferdinando oppure danni gian gianni gianni l'ottimismo e il profumo della vita oh lama dove sei oh lama dove sei a me sembrava che fossi sponato qua oh lama dove sei oh lama dove sei ok quindi lama non esponeranno mai nella vita sono stanco te lo dico bella ragazzi sono qui oggi con ruggero e lama però ruggero e lama non spona credo nelle foreste oh c'è finita la villa fame finalmente dopo nove minuti di registrazione che non ero più in quel posto la vicino alla piramide però ok c'è i lama in live li abbiamo trovati instant adesso che li cerchiamo non sponono mi piace questo questo stile di minecraft che lui mi sente quando parlo lui sa che sto pensando che voglio cercare i lama e quindi non li fa sponare però giusto secondo me c'è ragione cioè secondo me fa bene alla fine perché è giusto che lui mi piglia un pochino per il culo ci sta secondo me ci sta I am ready on the corner on the corner perché non trovo nessun lama sto registrando da un'ora e dieci un'ora a e dieci quando ero in live erano sponati qui dietro erano sponati davvero qui dietro il live raga ho controllato due secondi fa ricontrollo tendevo andare sulla destra tendevo andare sulla destra proviamo andare verso destra ma non boh cioè raga è pazzesco è pazzesco vieni lama vieni lama vieni ok abbiamo trovato credo il posto in cui eravamo avanti l'ultima volta che era appunto questo qua siamo scesi da questa parte top ok i lama erano sponati qua sicuro al 100% qua lama non ce n'è manco mezzo manco mezzo cena di lama manco mezzo forse no erano dei fiori che pazienza che ci vuole che pazienza che ci vuole tutto spona tutto tutto è sponato è sponato di tutto ho visto maiali mucche pecore conigli cavalli maiali cavalli lid sbav snaksh e sono sponati pure gli alberi però non è ancora sponato un lama mi volete dire che in una in una distesa così non spona un lama sta state veramente seri lo scelta lo scelta non sta veramente lì lì oddio raga l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato non ci credo oddio Oddio Un'ora e 28 di registrazione un lama un lama Oddio ma dov'è che esponano il biome del extreme hills Non sapevo sta cosa E niente Tu sarai il prescelto ciao l'amore uno di colori diverso raga Oddio quale volete no raga dobbiamo tenerci per forza al punto Sono belli io li voglio tutti e due Io li voglio tutti e due voglio che nei commenti scriviate il nome per uno e per l'altro Adesso cercherò di portarli a casa entrambi Ragazzi vi ho togliato tutto un bel pezzo perché avevo perso l'altro lama non me ne ero accorto Tato a prendere quegli altri ho preso questo qua a scuro perché sì perché sì Eh scusami eh Adesso non è che vorrei dire però già già ho messo mezz'ora per riprendere un lama Bravo bomber abbiamo il lama in casa raga abbiamo il lama in casa Non ti permettere di uscire Non ti permettere di uscire Raga io dopo ore nel quale ho provato a cercare il lama ce l'ho fatta Nei commenti scrivete il nome del lama io non ce la faccio più vi giuro Cioè sapete da quanto sto registrando sono lì La 1 e 18 è la 1 e 18 E io sto registrando da un'ora 49 minuti 53 56 57 58 59 secondi Per trovare un fottutissimo lama Ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto Io non ho da fare altro non ce la faccio più Nei commenti scrivete il nome per lui Che poi ma io ti posso cavalcare Sì posso cavalcarti Grazie A qual è? Grazie.